Buone, benvenuti. Ci sono persone che non hanno la possibilità di fare il saluto alla luna classico perché richiede un po' di forza fisica ed è un po' impegnativo. Ha loro ideato la rivisitazione del saluto alla luna classico, proprio adatto ai principianti. La sequenza ha una durata inferiore ed è più semplice e approcciabile per tutti. Tanti pollici in su e iscrivetevi al canale su YouTube, mi raccomando, Associazione Disciplina Orientale. Namaste! Mi porto in cima al tappetino, mani unite sul petto, inspiro, vado su, mi allungo, inarco leggermente ed espirando pievo le ginocchia, porto le mani in avanti, piede sinistro dietro, ginocchio giù, inspiro, vado su, espiro, scendo giù. Piedi uniti, rimango vuota, poi inspiro, destro dietro, espiro, scendo, vado in vuoto con la montagna, con il respiro vuoto, espiro, inspiro, vado su, espiro, scendo giù, di nuovo vuoto con la montagna, inspiro sinistro avanti, destro vicino, mi piego, mani sul cuore, inspiro, vado su, mi allungo verso l'alto, inarco ed espirando scendo sul cuore. Questa è la pratica rivisitata.